Bentornate e bentornate al canale, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Oggi vediamo come impastare l'argilla, vedremo due tecniche, una più italiana, più europea, che si chiama a testa di bue, e un'altra più orientale che viene chiamata a spirale. Mettiamoci al lavoro! Allora iniziamo col primo metodo a testa di bue, quindi prima pressione verso il centro, poi rialzo, riprendo l'estremità, le spingo verso il centro e schiaccio giù, in questo modo qui. Quindi ritiro verso il centro e spingo verso il basso. Rialzo, ritiro verso il centro, spingo verso il basso. Se lo faccio un po' di volte, in questo modo qui. Rispingo, ritiro verso l'interno e spingo. Dopo un po' vedrete che si starà formando questa forma, che è appunto la forma che viene definita a testa di bue. Continuo un poco. Praticamente devo cercare di creare queste pieghe e di farle rientrare verso l'esterno. in questo modo qui. Quindi prendo gli estremi e spingo verso il centro. Prendo gli estremi e spingo verso il centro, per ottenere questa forma qui. Quando pensiamo di aver finito, pian piano spingiamo l'argilla sul piano in modo da farla ritornare nella forma originale. Diciamo un cilindro di argilla. In questo modo qui. Pian piano le pieghe rientrano verso l'interno e la nostra argilla è pronta per essere lavorata. Vediamo adesso invece l'impasto a spirale. Partiamo da una forma lievemente più allungata dell'argilla. Procediamo con la prima mossa, ovvero spingere con i due palmi, prendere la punta dell'argilla con i due palmi e spingerla verso il basso. Ritirare sopra l'argilla, ruotarla lievemente, riprendere la punta e rispingela verso il basso. Riprendiamo, rialziamo l'argilla, ruotiamo lievemente e spingiamo la punta verso il basso. Di nuovo, ruotiamo leggermente e spingiamo la punta verso il basso. Facciamolo un po' di volte. Spingo, ruoto, spingo, rialzo, ruoto, spingo, rialzo, ruoto, spingo, rialzo, ruoto. In questo modo qui. Spingo, rialzo, ruoto. Vedete che pian piano si iniziano a formare queste pieghe qui. Continuiamo ancora. Vedete, io prendo l'argilla, ruoto, palmi sulla punta e spingo. In questo modo qui. Andiamo, possiamo andare un po' più veloci. E vedete che pian piano si iniziano a formare queste forme qui, queste pieghe qui. Questo è appunto l'impasto a spirale. Dopo 2-3 minuti di questi movimenti, possiamo pian piano creare il nostro cono d'argilla. In questo modo qui. Spingiamo verso il basso, rialziamo, ruotiamo, senza fare troppa pressione verso il fondo. Diciamo accartocciando l'argilla su se stessa, in questo modo qui. Andandola quasi a massaggiare. Pian piano vedrete che si formerà un cono. Di questa forma qui, vedete? La punta qui sopra e appiattiamo la base. Abbiamo quindi impastato l'argilla. Ma perché impastiamo l'argilla? La impastiamo per renderla umida uniformemente in tutti i suoi punti, ma soprattutto anche per togliere eventuali bolle d'aria all'interno. Vediamo insieme come vedere se all'interno sono presenti bolle d'aria. Allora, quello che facciamo è prendiamo il nostro filo di nylon, tagliamo l'argilla a metà e controlliamo le due metà e vediamo se sono presenti o meno bolle d'aria all'interno. All'inizio un consiglio che vi do è quello di tagliarla più spesso per capire se ci sono bolle e quindi se stiamo impastando per bene o meno. Riproviamo a tagliare un'altra metà. In questo modo qui. E vediamo che non sono presenti bolle d'aria. Se ci dovessero essere possiamo riunire l'argilla e ricominciare a impastare nuovamente con il metodo che più ci soddisfa. A questo punto siamo pronti per poter utilizzare la nostra argilla sia al tornio sia manualmente. Come al solito se vi è piaciuto questo video mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi nessun video di quelli che pubblicherò su quella che è la mia più grande passione ovvero la ceramica. A presto!